Ora andiamo a vedere altri operatori che ci possono aiutare nel restringere il campo o comunque andare a fare delle definizioni ulteriori dei nostri types e sono keyoff e typeoff operator. Keyoff, volevo aprirlo in questo modo ma in questo, e questo, no ho sbagliato, e typeoff. Sono degli altri operatori che ci permettono di creare dei type e descrivere dei type in base agli oggetti che sono già esistenti. Come potete immaginare, keyoff si utilizzerà con quelli che sono prevalentemente gli oggetti e typeoff invece sarà un utilizzo differente dell'operatore di typeoff. Ora andiamo all'interno sempre del nostro file di narrowing e partiamo da nessuna delle due cose che vi ho appena detto. Se ad esempio io avessi un oggetto che si chiama variance in cui mi trovassi di fronte a magari sm e voglio che sia sm e md che sia md e lg che sia lg. E così io voglio che queste assumano un valore costante, quindi che sm sia sm, come vedete in questo caso mi trovo con quelli che sono delle string. Se io volessi che s rimanessero appunto costanti, quindi che sm potesse solo essere sm, ecco che io posso andare a utilizzare quello che è sconst. E sconst, come vedremo appena le avrò compilate tutte quante, andrà a garantirci che il type in questo caso sia forzato, quindi sm corrisponda proprio solo il valore di sm. Quindi se appunto volessi andare ad avere quello che è il valore espresso appunto in un type che vada a restringere solo, verso solo questi valori, quindi a partire da un altro oggetto, ecco che utilizzano la combinazione di questi due strumenti che adesso andremo a vederci insieme. Ma ora andiamo a vedere singolarmente questi elementi. Partiamo da quello che è un pochino più losco. Quindi se io avessi un type che si chiama point, banalmente, in cui mi ritrovo con quello che sono x e y, che sono entrambi i numeri, se io avessi appunto il type m, facciamo una cosa a caso, dico che è di key of point. Se vado su m mi ritrovo con questa scrittura. Detto in maniera molto semplice, m, se dicessi appunto che let edit type m, posso dire che m tranquillamente è una x, quindi assume questi valori. Mentre si z, ecco che inizia a piangere. Quindi m può essere una delle chiavi dell'oggetto point. Ci sono diversi modi di utilizzare questo, quest'operatore, se ad esempio avessi quello che è un type person, scriviamo cosa a caso, non importa, person e vado a dire che ha quelle che sono x, che sono delle stringhe, possono essere delle stringhe o dei numeri, ma anche appunto, allora forse anche solo stringhe, non importa. Innanzitutto questa scrittura cosa vuol dire? Vuol dire che se andassi appunto a definire un oggetto che si chiama person, a me basta che vi siano delle chiavi che sono delle stringhe a cui venga associata una stringhe. Se io mettessi appunto surname, mettessi quello che è il valore di 2, lui non andrebbe bene perché deve essere una stringa, non un numero. Questa scrittura appunto vuol dire che non so quante proprietà ha, ma so che sono tutte delle stringhe. Se io appunto andassi a forzare e dire che voglio che type z sia uguale a key of di person, ecco che mi trovo di fronte al fatto che sia una stringa o un numero. Ma come ho appena detto che una stringa è scritto che è una stringa, può essere una stringa o un numero, perché in javascript quando uno va a utilizzare una chiave che è un numero, come vedete, non si lamenta, se vado a mettere poi uno, sicuramente perché mi ha messo la virgola, lui non si lamenta come type perché appunto i numeri vengono automaticamente forzati a diventare delle stringhe, quindi in poche parole siamo di fronte a questo tipo di scrittura anche se non lo sappiamo. Diverso è il caso in cui ad esempio person avesse qua quello che è il valore di number, e se qua avesse number io vado a forzare che lui sia un numero e quindi z diventa un number, ok? Questo è a grandine dell'operatore key of qui, in cui va a dire che un certo elemento può assumere il valore, il type assume il type o comunque il type assoluto rispetto alle chiavi di un oggetto. Per quello che è invece l'operatore type off, abbiamo già visto che serve a restituire quello che è il type di un oggetto, quindi si dice che const t è uguale a, non so, sempre 3, se io vado a dire che const n e type off di t, essendo una costante deve essere, deve essere 3, mettiamo le reti così sia un pochino più flessibile, lui può essere generalmente una stringa, quindi serve a permetterci di ottenere quello che è il type off di un determinato oggetto, mettessi const sono un pochino più stretto perché se non è una costante, vi si aspetta che t appunto sia 3. Quindi serve anche a permetterci di associare a un certo valore quello che è il type, derivandolo da un'altra variabile o da un'altra costante. Quindi se tornassimo su in questo punto, abbiamo la nostra variant un po' strana, noi ci rendiamo conto appunto che variant altro non è che il type off di variant e poi va a estrapolare da ognuno di questi la singola chiave, quindi il type off della singola chiave di variant. Non va a fare nient'altro a parte questa versione. So che sto facendo sembra una cosa scontata che so solamente che non sia, però di per sé effettivamente, poi una volta che ci si fa l'abitudine, questi concetti diventano abbastanza semplici. Un'ultima cosa che non c'entra nulla, ma è venuta in mente in questo momento che volevo farvi vedere, che se io avesse il mio type person 2, e abbiamo type array di numeri, e io vado a dire che person e name string e age, non importa, non vuol dire nulla questa cosa, è di type ar. se io poi volessi dire che il type prova è uguale a person 2, io poi aprendo le parentesi quadre posso andare ad accedere alle singole props, quindi questo diventa un array di numeri, quindi prova assume questo valore. se io volessi dire che è direttamente solo un numero che fa parte di age, ecco che io posso nuovamente aprire le parentesi e scrivere number, number sto dicendo che voglio passare a prova quello che è il valore che potrebbe avere un singolo elemento all'interno del mio array, del mio array appunto di numeri, ok? Posso accedere a tutte le props in questo modo, posso andare avanti all'infinito con questa passi. e poi dopo aver guardato un'infinito con questa passione,